di nuzzo si è qualificato al mondiale a londra ho visto yes adesso ad amsterdam però occhio perché ha vinto i gironi poi è passato è passato contro uno dei puswiz però domani può ancora giocare potrebbe ancora andare avanti e vincere prendo l'ero e mi metto a sparare non è male anche se pressando l'amico quello c'era uno slurp sotto se la posso prendere poi io il tizio mi sta guardando c'ha la r quello col mirino cosa lo vedo sopra il tetto della clock tower una one shot stanno scendendo ora la madre di questo fa la pittana ma insomma dove sei andato ma è successa una cosa ma sei andato sono noto caduto in quel buco ma ma per zone ma lei è partito come un treno stavo sopra stavo sopra lo stavo guardando da giù lui non si è d'accordo di me finché non sono caduto in quel buco e poi mi trovato davanti e non avevo il pompa e e e e e e e e e ho stretto il culo marzo stretto forte forte non mi piace questo atteggiamento di accondiscendenza vogliamo vedere chi è che c'ha 3000 sab o no com'è 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 tutto a posto marzo mi è appena morto e sto portando le sue ceneri con me pensando dentro al medikit ragazzi dovevo mangiare la pizza mi piace di più spettare in questa occasione beh la prossima il secondo ragazzi sto fight è non voglio esagerare ma era una giocata la terri al marta easy c'era un material marco chiedo ai feed se mi fanno entrare tipo come content creator così vi posso chiamare face marzo e faccio finta di essere pro gamer beh non sarebbe mica male ma guarda che eccoli qua gli spammoni è bianco è tuo occhio no 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 Mick che cazzo è successo? Gli ho tirato pure un colpo di pompa Devi andare a restare l'amico bello Perché non lo resti? Mi piace ho avuto un tempo di reazione di un felino Sì, ma quello che ho fatto di te? È morto Merda Eh che cazzo Ok, di titanio Mamma mia È vicino È vicino, ok È vicino Mamma mia Comunque anche la jumpa del campfire Dai, quindi Buono, buono, buono per carità Ma però è successa una cosa Veramente è successo il disagio Oh no, sto guardando dalla live Cioè, mamma mia Il tizio che ti è comparso a fianco È stato Ma, ma Quello che Ma poi si è lanciato kamikaze È quella la cosa Cioè, è È arrivato Tipo Io Cioè, lui ha detto Gli stavo sul cazzo Dovevo morire in quel momento Per lui Non c'erano altre cose Hai due jumpa Fatti le usiere o dopo Vediamo come va Adesso col fucile da caccia Ragazzi Avevo il terrore Che mi prendeva Tipo su una spalla Oh che gioco Cos'è che sei tu Per quanto sei bravo a giocare No, ok WHAAAT Se mette Stanno andando poche le mani Prendono proprio fuoco 360 Dicevi Per quanto sei bravo a giocare Se fossi stato cinese Coreano Robi del genere A quest'ora Penso che Ti avevano fatto Tipo la statua In mezzo al paese Perché là sono visti Come degli sportivi È vero Tipo Ci vanti Quante parli con un normale C'è un normini Cioè Cazzo Vai al giornalaio Just Rennes Questa giocare La parte Sghere E proverebbe Non la di Pg3 Nesghere Ora Mi devi dire Perché Vai in Cina Corea Robi del genere E dici una roba del genere Che ti fanno la statua Tipo Cristiano Ronaldo Sì 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 lo so Sarebbe stato bello Cioè dimmi se non ti sfrona Ad essere forte Quello Porco 2 Hai presente il cazzo Diventa un abbacchio Sì diventi tipo Cioè sti tipo Beckham Per loro E che palle Non saltare Ah Ce n'è un altro dietro Ok Quelli di gente brava Non posso Quelli non li posso Prendere Mai nella vita Se non fai dando Tramite Cioè con i cecchini Sì sì Quelli adassi Mi sa che Merce ti fai I cazzi Tuoi Ah vado a Divo A Fader a Divo Bravissimo Cazzo Non me ne sono accorto Però stava svuoppando arma Lo stavo seguendo Con la visuale periferica Qua distanza Il pump fa 103 È diventato rincoglione Per un attimo Mi ha fatto scordare Veramente Oggi sei veramente on fire Non c'è mai un lift Non c'è mai un lift Oh sì No merda Non mi hai preso l'arma Non mi prende le armi Mi sembra il tempo A tappo Toccata tu Fa cadere Mi ha preso a attraversi il muro Bravo Bravissimo Cazzo di miracciai Ma che ti è chiuso il bugoloide Bravissimo Ma mamma mia È il Cristo Redentore Proprio Questo è il trick Che ti diceva È veramente un mostro Non lo so Ma Fatto una roba Asturda Speed up Complimenti Che cazzo è Ma qua c'è Stavo un bestemmione Proprio grossissimo Fai 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 Grazie per la visione!